Ciao a tutti, rieccoci dopo qualche settimana a parlare nuovamente di outside playing. Dopo aver esplorato qualche settimana fa la possibilità di suonare outside su un accordo minore settima usando una pentatonica minore un semitone avanti, vedremo come è possibile applicare lo stesso concetto ma spostandoci questa volta un semitone indietro. La musica Ciao a tutti e alla prossima!